parlando di one piece che questa settimana ricomincia è uscito questo bel messaggino di eichiro oda eichiro oda sensei qua tradotto in italiano quando ero un bambino immaginavo di disegnare un manga con il finale più atteso chissà se ne sarò all'altezza adesso resta soltanto una piccola parte della saga del paese di wa i preparativi sono quasi ultimati mi ci sono voluti 25 anni detto questo non è un problema se iniziate a leggere da questo punto in poi perché a partire da adesso sarà lo one piece disegnerò tutti i misteri di questo mondo che non ho mai rivelato sarà super interessante allacciate le cinture e restate con me ancora per un po è emozionante tutto questo pensare che ci ha messo 25 anni per fare il prequel di one piece perché questo che sta dicendo ci sono voluti 25 anni prima di raccontare quello che vuole davvero significare questa storia lasciando il fatto che è ovviamente anche una mossa di marketing no e dire cominciate a leggerlo adesso perché adesso potrete sapere tutto adesso capirete qualsiasi cosa quindi se cominciate a leggerlo ora scoprirete tutto quello che io non avevo ancora raccontato è bellissimo questo che oda dice saltate tutte le saghe raccontate finora cominciate a comprare il finale punto non ti sembra un po una supercazzola ma no in realtà è più secondo me è più una manovra di marketing perché chiaramente one piece non sarebbe dovuto essere così lungo questa è una conseguenza dovuta alla sua enorme fama e mi fa sorridere più che altro e l'autore e l'editore stesso dicano guardate finora io non ho raccontato nulla di davvero interessante la roba interessante è qua quindi le cose sono due e qua chi parla di one piece dovrebbe accettare la realtà o cercare anche di dichiarire questa cosa no perché le cose sono due o tutto quello che ha raccontato oda finora non serve assolutamente a niente e lo sa proprio lui e o tutto quello che oda ha raccontato finora non serve a niente e lo stanno ammettendo candidamente dice io per 25 anni ho raccontato un manga dove non c'è nulla cosa fra l'altro abbastanza vera perché è difficile riuscire a collegare tutte le cose accadute in one piece in questi 25 anni infatti è uno dei motivi per i quali i fan si scannano tutti i giorni e dicono ma questo non torna ma questo non va bene ma questo come è possibile ma se 800 anni fa era così ma se 80 anni fa era così ma se questo colà e sembra chiaro che one piece sia pieno di cose non raccontate ok quindi lasciando dei buchi oda si è dato da solo la possibilità di metterci in quei buchi delle cose il problema è che poi non tornano perché è palesemente un fumetto nato in un modo e cresciuto in un altro quindi o stanno dicendo che fino ad ora hanno raccontato cose che non servono e quindi tutti quelli che possono leggere one piece adesso dovrebbero farlo perché adesso ci sarà la storia di one piece adesso lui svelerà tutto adesso lui racconterà tutto oppure è solo una sporca e infame mossa di marketing no vabbè facciamo finta che quello che abbiamo raccontato prima non serve perché adesso la gente deve cominciare a comprarlo la gente visto che insomma i numeri di one piece ormai sono sempre più o meno stazionari perché one piece ha venduto l'invendibile ha fatto di tutto e di più e ora one piece non cresce più come numeri non cresce più come prima perché tutto il mondo ce l'ha già one piece no però c'è tutto il resto del mondo che non legge fumetti che ancora non ha one piece e potrebbe essere questa un'ottima mossa di marketing per far avvicinare un pubblico che di solito non legge proprio i fumetti stiamo a vedere tanto è una delle due perché non c'è un'alternativa non esiste l'alternativa in questo messaggio o tutto quello che ha raccontato finora non serve a niente o è solo una manossa di marketing brutta per far comprare volumi a nuove persone poi magari io sono malizioso eh ma io invece confido nell'onestà di oda e di shuisha che dicono finora abbiamo raccontato un cazzo palesemente vero fra l'altro per chi legge il manga è così ci sono proprio dei pezzi di storie che non esistono spariti per poi ritornare dopo e metterci dentro delle cose il mago della velocità divina la butta di fuori dice magari è tutte e due marta balsami che dice altri due anni vabbè cinque ne dubito perché aveva detto due anni fa quindi massimo tre allora quando è l'anniversario scusate one piece primo capitolo quando è stato pubblicato 1997 ebben 1997 2027 si fa un bel trentennale si arriva a cinque anni e sì perché ah giusto oggi è proprio l'anniversario oggi è proprio l'anniversario del primo capitolo di one piece pubblicato il 19 luglio 1997 ora non è che voglio di che sarà per forza cinque anni però tra cinque anni è il trentennale una coincidenza coincidenza che oggi è l'anniversario coincidenza che tra cinque anni sarà il trentennale stiamo a vedere oggi è pure l'anniversario della genesi di sommo buta secondo me ci aspettano molte ricapitolazioni e spiegoni verrà tutto ribadito mille volte quindi il nuovo lettore potrà quantomeno seguire su grandi linee la trama ma quale trama ma la trama non esiste c'è one piece finora è stato letteralmente ti devo raccontare tutti i personaggi c'è one piece se andiamo a vedere gli elementi della trama vera ma quali sono cioè seriamente da quando shanks dà il cappello a luffy ma di che si è parlato c'è lo sconvolgimento degli equilibri c'è barba bianca che viene ucciso ace che viene ucciso e questo ci porta in una nuova dimensione ma questa non è la la trama io voglio dire ok vabbè le nuove generazioni contro le vecchie generazioni ma ma questa non è la trama quali sono gli eventi luffy vuole diventare il re dei pirati ok ma questa sua storia si incrocia con quella di un mondo un po più complesso sicuramente molto largo che ha a che fare con delle cose accadute prima quindi non si sa che fine ha fatto una cosa non si sa questo che come è accaduto i cento anni di buco di storia i poem glyph che può leggere soltanto nico robin sì ma canna fa cioè cosa cioè come è progredita la trama in che modo è progredita la prima parte di one piece è molto incentrata sui sentimenti dei personaggi sulle loro storie ma da fish man island in poi ha sempre preferito ampliare il world building e poi ha fatto una saga dedicata soltanto alla storia di sanji che non l'aveva mai raccontato finora ma io direi in realtà fino ma anche wano kuni anche ma wano kuni ragazzi è questo ci serve a raccontarci yamato basta che one piece non sia una cagata tipo l'amicizia o la bellezza del viaggio se non mi mazzo no 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 sarà una cosa fisica l'ha detto è e ci roda l'ha detto sarà qualcosa che loro trovano chopper ormai mamma mia è diventato insopportabile nel time skip sembrava potesse essere qualcosa di più basta deve fare la macchietta chopper palesemente l'amico gay di tutte le ragazze era cresciuto era fico potente ora è sempre così ma perché è come dende come dende dende nella nell'inizio della saga di majin bu è cresciuto dici ok può fare delle cose nuove cioè la divisa da dio diversa nuova cioè poi capitoli dopo torna nano con un vestito diverso che torriamo palesemente se l'è dimenticato però torriamo lo perdono perché se l'è dimenticato è un coglione e giro da invece ha seguito i trend del popolo che non voleva ciò per forte fico lo voleva sempre più scemo cosa pensi la critica di oda ai scenari moderni che si prendono troppo sul serio e non sono seri penso che è arrivato il momento di leggere da manga scorner l'intervista e ci roda e gosho aoyama eccoci qua one piece cross il detective con special collaboration intervista ichiro oda e gosho aoyama luigio maowara 23 al baraccato del canale telegar manga scorner eccoli qua andiamoci a leggere conversazione miracolosa over 100 tra ichiro oda e gosho aoyama lo scorso anno sia one piece che detective conan hanno sorpassato i cento volumi un dialogo miracoloso tra i due mangaka che si trovano da anni in prima linea nell'industria dei manga è stato finalmente realizzato jump e sanni all'epoca in una precedente intervista ayona sensei disse sarebbe interessante parlare con oda kun come compagni che raggiungono simultaneamente i cento volumi vorrei parlargli riguardo a molte cose oda sensei rispose in un commento dicendo non l'ho mai incontrato ma lo vedo come un commilitone so quanto sia dura raggiungere i cento volumi aoyama san congratulazioni per i cento volumi di conan questa leggendaria conversazione sta finalmente diventando realtà sono curiosissimo di vedere cosa si diranno sono un esercito che cosa intende con commilitone e per gli artisti di jump è sicuramente una guerra il senso è proprio quello loro intendono le pagine dei manga come delle linee di trincea per fare una guerra con chi è più bravo gosho aoyama oda kun non mostra spesso il suo viso quindi è un onore vederlo dal vivo e oda risponde però ayama san mostra il suo viso in molti luoghi ma sono davvero felice non credevo che ti avrei mai incontrato nemmeno io ho sempre pensato che non ci sarebbe stato un futuro in cui ti avrei incontrato prima mi sono impressionato davvero molto perché ho ricevuto una business card dal capo redattore di weekly shonen sunday ricevuto una business card di sunday queste cose succedono davvero stavo cercando qualcosa che vi accomunasse dice l'intervistatore e pare che oda sensei sia nato nel 1975 mentre aoyama sensei nel 1963 entrambi avete lo stesso segno zodiacale essendo nati nell'anno del coniglio esatto conoscete la leggenda dell'anno del coniglio tetsuya chiba sensei è nato nel 1939 e mitsura dachi sensei nel 1951 anche loro sono nati nell'anno del coniglio e danno una differenza di età di 12 anni anche io sono nato 12 anni dopo mitsura dachi sensei e tu sei nato esattamente 12 anni dopo di me non c'è nessuno a cui sia successa la stessa cosa dopo e ichiro da risponde vorrei che potessimo mettere da qualche parte akira turiyama sensei ma non appartiene all'anno del coniglio infatti akira turiyama sensei e dell'anno del drago devo riconoscere che so qualcosa solo riguardo a weekly shonen jump tu sei più preparato di me nelle altre riviste non molto all'inizio portai il mio lavoro a weekly shonen magazine e mi dissero non è molto adatta a noi meglio portarla ad un'altra rivista decisi quindi portare il mio lavoro a sunday ed è lì che mi trovo tuttora hai fatto il tuo debutto nell'86 giusto che successi c'erano in quel periodo prima che debuttassi ero un ragazzino magazine quindi non leggevo molto di jump ma mi piacevano comunque lavori come once you know san shiro di makoto kobayashi e uro wa taipei di tetsuya c quando si parla di sunday era touch di mizuradashi ho letto touch e anche rough sempre di mizuradashi ricordo anche che guardavo l'anime usa e yatsura di rumiko tagashi dopo aver debuttato e serializzato magic kaito yaiba third base fort rendendo detective conan il tuo quarto lavoro giusto invece odakun non ha fatto nessun'altra serie oltre a one piece esatto sono un one hit wonder un one hit wonder però il tuo one hit è decisamente enorme direi il manga più venduto di sempre quali altre serie venivano realizzate su sunday quando è iniziato detective conan e chiro da sta facendo tutta una serie di domande vuole sapere in che modo sei cresciuto che cosa leggevi qual è la tua storia è molto curioso di questo infatti la la sua imbeccata su akira toriyama è perché la sua storia è akira toriyama cioè senza dragon ball non sarebbe esistito oda come mangaka e one piece come manga vuole sapere a chi appartiene vuole conoscere e aoyama risponde è stato un periodo fantastico ramamezzo di rumiko takashi usci e tora di kazuhiro fujita h2 di mizuradachi kyokara orewa di nishimori yuruyuki la formazione è stata assolutamente terrificante ho letto ramamezzo è stato davvero divertente leggendo riviste diverse non importa quanto tempo ci dedichi anche ciò che finisci per leggere o vedere è completamente diverso all'inizio di detective conan jump aveva dragon ball di akira toriyama e slam dunk di takeiko inoue ho letto dragon ball amo lo stile di toriyama sensei oda conferma che era un jumper in quel periodo ma questa è una cosa che volevo chiederti se ci fossimo mai incontrati ecco qua se sembra che oda è andato a fa tipo spionaggio industriale come vedevi jump all'epoca le vendite di jump sono state incredibilmente travolgenti in quegli anni ma un po di conflitto è arrivato dopo quando weekly channel magazine ha superato i suoi numeri di tiratura aoyama risponde devo scusarmi non me importava affatto quindi non te ne sei nemmeno preoccupato sembra che stanno lì con delle pistole puntate del vissatore domanda vorrei chiedere dei vostri pensieri e ricordi quando sono iniziato le vostre serie quando avete pubblicato il vostro primissimo capitolo come vi sentivate oda comincia ho iniziato a serializzare one piece nel 1997 due anni dopo la fine di dragon ball nel 1995 è stato uno shock per tutti noi nuovi arrivati che siamo venuti sulla rivista per rivendicare il trono abbandonato della serie in quel periodo iniziò la lotta per il posto che aveva lasciato dragon ball e per due anni tutte le serie si confrontarono tra di loro e vennero schiacciate in che alla fine non fu l'unico sopravvissuto aoyama dice incredibile sembra che sta parlando letteralmente di una guerra era un periodo in cui dragon ball e slam dunk finirono uno dopo l'altro e molte persone pensavano che jump sarebbe stato in grossi guai ricordo che la copertina del numero di jump in cui iniziava la mia serie apparve sulla prima pagina di un giornale mostrando la copertina di one piece al canto al titolo jump è stato superato da magazine e non è che avesse alcuna responsabilità al riguardo ma ricordo ancora di essermi sentito davvero frustrato è andato la propria propria di per colpa di detective conan io sono finito sul giornale e la gente di quel periodo si ricorda che one piece non vendeva bene perché vendeva meglio detective conan proprio tremendo cioè è una cosa io sono non vedete bene dalla gamma ma io mi sto stringendo nelle spalle perché sono intrigato dalla cosa ma sono anche spaventato dal vedere il modo in cui sottilmente kosho oyama dice io sono superiore distaccato non gliene frega niente prima di tutto perché è più anziano quindi oda dovrà portargli comunque rispetto anche se vende di più one piece però deve deve precisare che mo one piece è più forte oyama risponde quanto a me quanto a me che non puoi farlo quanto a me quando sarebbe stato pubblicato il primo capitolo di detective conan avrei dovuto apparire al centro della copertina della rivista il fatto è che durante l'eliminatore del mondiale masashi naka yam ha segnato un gran gol e la mia copertina è stata sostituita con lui ecco perché la copertina di conan che doveva apparire con il primo capitolo della serie ha avuto la sfortuna di apparire con il secondo capitolo invece ed eccola sono le copertine di weekly shonen jump 34 del 1997 e weekly shonen sunday 5 e 6 del 1994 infatti sotto a nagayama ci sta a shinichi kudo nel tondino lo spirito competitivo creato da jump cosa ne pensate l'uno dell'altro e degli altri mangaka che hanno lavorato scusate che hanno lavori di successo manga di successo comincia ora dopo la fine di dragon ball il mondo dei manga shonen è stato dominato da due opere detective conan e the king di gk files conan vinceva sempre e gosho aoyama risponde ah seriamente fa finta di niente ma lo sa lo sa ben lo sa per forza lo sa benissimo cioè lo tratta pure con sdegno sia veramente superiore così sia veramente lo compro quello che entra nell'albergo lo compro cioè non gliene frega proprio niente duro 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 ma che cos'è questo lo scontro tra sommobuta e caverna di platone oda risponde con un buolo text quella era la mia percezione all'epoca a guidare jump c'era ruroni kenshin di nobuhiro watsuki ero uno degli assistenti di watsuki sensei non esiterò davvero a dirlo eravamo orgogliosi che i nostri senpai guidassero il mondo dei manga shonen con manga incentrati sui combattimenti quindi abbiamo onestamente pensato che i manga misteri non dovrebbero essere in cima ai manga shonen chiuse virgolette lo stesso watsuki sensei ha affermato che aperte virgolette se una serie non si comportava sempre come la sua non poteva essere in cima a jump chiuse virgolette ecco perché ho sempre considerato il detective conan un nemico per me e quindi non l'ho letto ho avuto anche pensieri come aperte virgolette trascinerò giù chiuse virgolette non scherzo ti consideravo un nemico te l'ho detto che stanno con con le pistole tra un po questi si ammazzano la guerra più dodale tra i cirona io ho mai letto detective conan mi fa cacare perché i manga misteri sono una merda solo le mazzate e questa è l'intervista più strana mai letta in assoluto mamma mia aoi ama risponde davvero o dio un nemico vista la tua risposta sembra che fossi solo io a pensare che avessimo una sorta di rivalità per favore di qualcosa come è così che dovrebbe essere jump hai mai considerato qualcuno come un tuo rivale boscio aoi ama e lo rimbalza l'ha rimbalzato del nemico io come a dire tu oda che vendevi così poco rispetto a me come potevi essere un mio nemico non ti consideravo proprio non esistevi eri nessuno un uomo non sicura di una formiglia aoi ama risponde su questa invettiva del se aoi ama senza i avesse un nemico oppure no dice non proprio quando si tratta di the kinda ichi case files di canary yosaburo se moramagi e satoufumiya avevo questa sensazione di non perderò ma sono comunque entrambe serie con generi piuttosto diversi quando guardavo l'intera industria dei manga e davo un'occhiata alla cima detective conan era sempre lì era abbastanza consapevole di tutto quando non ero altro che un principiato è vero che quando arrivi in cima smetti di vederla e oiamo poi dice ma sono stato subito superato giusto o mi sbaglio fiero anche di essere stato superato però ride come a dire ma sono stato superato da one piece sembra sempre che lo pizzica all'epoca ero piuttosto disperato dice oda quindi non sono del tutto sicuro di cosa sia successo da quando ho iniziato questa serie ho cercato di fare del mio meglio per me stesso quindi ho smesso di guardare ciò che mi circondava poi ci roda che dice quando io sono arrivato in cima a detective conan e chi lo vedeva più chi lo vedeva più fantastico ma è stato davvero difficile anche per me fare una serie poliziesca da solo mi richiede di pensare sempre alla mia storia ai disegni il che non mi lascia tempo per pensare a qualsiasi altra serie fondamentalmente nel momento in cui inizio una serializzazione smetti di guardare ciò che ti circonda ho molto rispetto per te visto che riesce a continuare ancora dopo tutto questo tempo ma si come a dire sei un vecchio e ancora fai i manga mamma mia sembra veramente una guerra questi sono kenshin e kinaichi case files hai mai pensato ai mangaka principianti come i tuoi rivali inizia a gosho wao ya rivali chissà immagino che gli altri siano altri e io sia me stesso sei abbastanza tranquillo quando hai costruito quel tipo di mentalità direi fin dall'inizio davvero non ti sembrava una competizione quando eri più giovane quando ero più giovane in sunday apparvero altre opere investigative poiché detective conan vendeva bene quindi avevo la sensazione di non voler perdere ma questo è tutto può sembrare strano ma non credo di essermi mai sentito come se avessi un nemico come ho detto prima c'era the kindaichi case files ma era un lavoro diverso però che per te i nemici sono le serie misteri sì tuttavia all'epoca non c'erano molti mangaka che disegnavano serie poliziesche quindi ho sentito che era qualcosa che stavo facendo da solo e così che ho concluso che gli altri non sono altro che gli altri e io sono me stesso per me è stato durante questi ultimi anni che sono stato in grado di mantenere uno stato mentale simile fino ad ora sapevo che i lettori spesso rimanevano delusi se one piece non pubblicava un nuovo capitolo e mi sentivo responsabile per questo ultimamente è cambiato tutto grazie a scrittori nuovi e più giovani e sono shooting jump e che mi supportano anche quando sono in pausa togliendomi molto peso dalle spalle questo è anche il motivo per cui ho smesso di preoccuparmi di combattere con altre serie manga mi sembra davvero di avere finalmente la libertà di affrontare i miei fan al mio ritmo quindi Ichiro Oda ringrazia guardate qua come è stato fatto un bel giro di parole per dire grazie a tutti gli altri che vendono abbastanza non quanto one piece ma abbastanza da tenere alta la tiratura di shonen jump così non sono solo io a dover me lo so barcare se torniamo un po indietro poi riflettiamo anche sul fatto che sentiva davvero questa pressione per un po di anni di essere l'unico che tirava avanti la rivista e se non c'era jump non solo era un problema per i lettori ma in realtà è un problema pure per l'editore sembra che tu sia stato piuttosto impegnato fino ad ora mi chiedo perché però il sistema di jump è così pessimo è una competizione agguerrita se ciò che disegni non è abbastanza buono verrà ovviamente cancellato è lo stesso per sunday e oyama risponde sì lo è ma nel sunday dei vecchi tempi gli editori non avrebbero detto ai mangaka le classifiche delle loro serie dopo che detective conan ha raggiunto il capitolo 10 ho dovuto chiedere loro di darmi le classifiche e ho iniziato a seguirle di nascosto forse jump mostra le classifiche e questionari deliberatamente i loro mangaka per alimentare il loro spirito combattivo interiore è qualcosa di cui chiunque anche io si preoccupa quando avvia una serie dal momento che vuoi sempre sapere se sopravvivrà o meno certo anche perché dalla sopravvivenza della serie dipende pure il guadagno passiamo a yai la tua serializzazione prima di detective conan è riuscita a raggiungere il primo posto in classifica due volte durante i suoi capitoli finali giusto comincia naturalmente si ero così felice di raggiungere finalmente il primo posto e ho chiesto alla redazione di metterlo nella mia bara dato che ero sicuro che sarei morto per essermi oberato di lavoro vedo che avevi qualche attaccamento ai numeri mette il dito nella piaga oda non ti senti frustrato se perdi la tua posizione in classifica allora sì ma detective conan è al primo posto da quando la serie è iniziata più o meno è un po odioso dirlo quindi mi fermo che basta che basta ti senti frustrato sì ma detective conan è sempre al primo posto è quasi frustrato dal non poter essere frustrato e botte risposte incredibili e oda dice anche io capisco quella sensazione non è bello yaiba nuova domanda quanta pressione avete sentito essendo le serie principali delle vostre rispettive riviste per così tanto tempo gosho oyama pressione zero e ichiro oda vale lo stesso per me falsi 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 bugiardi falsi ci credo mai zero pressione a essere la serie principale figurati hanno il peso di una rivista intera sulle spalle a oyama poi continua voglio dire pensavo fosse colpa di shogakugan per avermi permesso di disegnare questa serie si toglie un piccolo sassolino dalla scarpa e oda fa sono sempre stato consapevole del mio egoismo quindi più il mio spirito combattivo cresceva più pensavo che fosse tutta colpa mia se la serie doveva finire o calava in popolarità zero pressione assolutamente pressione quale pressione niente è davvero difficile da immaginare onestamente se avessi sentito la pressione non sarei stato in grado di disegnare se ti fermi a pensarci un secondo è un po spaventoso quante cose ho sulle spalle a volte penso che solo le persone con il nostro tipo di personalità possono sopravvivere a tutto questo lo penso anch'io cosa pensate reciprocamente della vostra arte e comincia oda è attraente è super attraente anche quando la mia unica conoscenza riguardava l'arte ho sempre pensato che fosse davvero unica onestamente stili artistici distinti e insoliti sono quelli che possono sopravvivere in questo mondo non era solo questo ma quando ho letto la serie ho sentito un fascino misterioso bambini gli uomini e le donne adulti possono tutti provare lo stesso fascino e affezionarsi alla serie motivo per cui ho sempre pensato che sarebbe diventata un successo sono rimasto davvero colpito quando ho visto che non c'era una scena di luffy che mangiava il gomu gomu no mi se fossi stato io avrei disegnato un suono dokun onomatopea di un forte battito cardiaco dopo che l'ha mangiato e mi immagino proprio la scena classica proprio la vignetta un po dall'alto che crea terrore con l'effetto del retino dietro che parte dal nero e va a schiarirsi poi l'onomatopea mentre mangia me lo immagino proprio così anche in detective conan il personaggio principale cambia il suo corpo dopo aver consumato una sostanza ma anche se cerco di disegnare quelle stesse sensazioni penso che le espressioni di one piece siano molto più fresche inoltre quei disegni più retro dei gorosei gli astri di saggezza che appaiono nella saga del reverie sono incredibili onestamente non so come disegnarli lo sta lodando penso che sia stata una buona mossa da parte mia li ho fatti apparire molto tempo fa ma quando ci ripenso ora non penso che i loro disegni fossero affatto cattivi tuttavia quei personaggi non hanno ancora mostrato il loro valore reale attenzione quindi i gorosei avranno qualcosa da dire nel futuro team detective conan team one piece quando si tratta di adattamenti anime televisivi molte voci finiscono per sovrapporsi yamaguchi kapei voce di shinichi kudo e kaito kid e usopp hiketa shuichi voce di akai e shanks fruya toro voce di amuro e sabo utani ikue voce di mitsuiko e chopper comincia oyama non c'è da stupirsi che si sovrappongono considerando che entrambi gli anime vanno avanti da un quarto di secolo quando ho visto detective conan the bride of halloween sono rimasto sorpreso da quante voci riconoscevo yuriko yamaguchi che dà la voce a nico robin doppia anche christine richard nella saga di dress rosa sono molti doppiatori di detective conan megumi a yashibara che dà la voce a dai haibara ha interpretato il ruolo di rebecca fruya toro che dà la voce ad amuro appare anche come sabo un ruolo piuttosto buono un ruolo piuttosto buono ikeda shuichi dà la voce a shanks nel tuo prossimo film red giusto odakun anche la voce di akai shuichi in detective conan che è un ruolo piuttosto popolare sta tornando la rivalità qua ed ecci roda subito in becca non è apparso nel tuo ultimo film vero che lo fa in detective conan bride of halloween ma in detective conan appare più frequentemente giusto in one piece molte volte i membri dell'equipaggio devono separarsi quindi ci sono molti esempi di personaggi regolari che vanno in vacanza abbastanza spesso sanji è venuto a doppiare per la prima volta dopo tre anni tre anni mamma mia for showyama fa ci sono voluti sette anni da quando a kai se n'è andato ed apparso di nuovo e ho persino pensato di spoiler lo dopo due anni anche vermut ha impiegato cinque anni per apparire nuovamente nell'anime dalla sua ultima apparizione non mi aspettavo che l'anime continuasse così a lungo molti dei doppiatori stanno invecchiando qualche tempo fa ma yumi tanaka che dà la voce a luffy e vi ricordo anche a krillin in dragon ball ci ha chiesto con preoccupazione cosa sarebbe successo se fosse morta quindi masako nozawa che dà la voce a kurea e dà la voce anche a goku in dragon ball le ha detto se muori prenderò il tuo ruolo cioè masako nozawa la vecchia scuffiona sta alla soglia dei 90 ha detto a quella che è più giovane se muori io faccio io io non lo so non lo so vuoi fare tutto lei io non lo so tremendo ma piuttosto pensate se muore masako nozawa che ci vuole uno che la sa imitare che come si fa senza voce a goku e chiroda conclude dice spero che rimangano tutti i più sani possibile a oyama san di solito parli con i doppiatori e oyama fa prima del coronavirus avevamo delle feste per i lanci dei fili quindi parlavamo molto qualche tempo fa ho visto uno spettacolo pirotecnico dal mio salotto così ho chiamato tutti i doppiatori e ho improvvisato un enorme banchetto a casa mia è stato davvero divertente anche se aveva ancora molto lavoro tu continui a farlo giusto odakun è incredibile di solito facciamo solo self service e dico che sto facendo una festa takoyaki poi cucino tutto senza chiedere agli altri qua è incredibile e ci roda devo cucinare io devo fare io secondo me lo fa la moglie la cosplayer di nami poi ci roda diciamo ah l'ho fatto io l'ho fatto io per farsi bello e l'ha fatto tutta la moglie eccomi come riusci oda sensei hai detto in una vecchia intervista che sei felice di essere vicino a tutto lo staff dell'animo e tutto questo è davvero l'impressione di andare d'accordo con lo staff di animazione e produzione sì ma è sempre stato così l'animo è iniziato molto tempo fa tutti loro sono diventati come dei parenti ormai anche i miei figli li conoscono da quando erano piccoli quindi è quasi come una relazione familiare anche io un buon rapporto con lo staff ma ho dichiarato molte volte con determinazione che questo attore dovrebbe dare la voce a questo personaggio ad esempio coichi yamadera che ha doppiato stumo akai un personaggio apparso di recente nell'anime è stato scelto da me volte cambia anche i personaggi del manga dopo aver ascoltato le voci dei loro doppiatori pensando tra me e me quindi è questa la loro voce ho pensato il ruolo di chopper come ad un personaggio mascotte dopo aver sentito la voce nell'anime televisivo anche quando avevo una politica di non disegnare personaggi mascotte ma la voce di otaniku era troppo carina e infatti adesso ne paghiamo tutti quanti lo scotto di avere un chopper che ha praticamente una caratterizzazione inesistente se non quella della mascotte chopper la vittima distrutto eh sì ragazzi that's life è lo stesso per me quando ho sentito la voce di otani come mitsuiko ho pensato che fosse così carino che ho iniziato a disegnare il suo personaggio in modo più carico aviamo san sovrapponi anche i nomi dei doppiatori con i ruoli con i loro ruoli giusto come takagi san ufuruya san wataru takagi san aveva un ruolo senza nome all'epoca ma quando il suo personaggio apparso nell'anime è diventato detective takagi perché si è presentato dicendo per favore chiamami takagi mi ho fatto assumere la responsabilità e persino apparire nella serie con il suo vero nome il caso di furia toru infatti un omaggio all'amuro rei di gundam un nome che ho separato per dare vita a due nomi furia rei e amuro toru spero che i fan di gundam ne saranno soddisfatti hai visto gundam odakun e odafa ho visto gundam e mi è piaciuto ma penso che le esperienze che abbiamo avuto con esso siano piuttosto diverse capisco allora non hai visto il first gundam no quello che avevo visto era proprio il first gundam il boom della serie è avvenuto durante la tua adolescenza a yama san dopodiché quando era un ragazzino è arrivato un secondo boom avevo l'impressione che quelle ritrasmissioni fossero già un grande successo credo che a oyama gliela abbia chiesto perché si è accorto che oda è un fan dei robottoni ha comunque la questione first gundam e primo gundam credo sia semplicemente una questione di adattamento durante l'intervista ma si sta parlando delle rex 78 si parla della prima serie come siete coinvolti di solito nei film della vostra serie gosho oyama sono coinvolto fin dall'inizio del film dagli scenari al contenuto fino ad essere troppo coinvolto finendo per non approvare delle cose inoltre detti conan pubblica un film ogni anno giusto mi chiedo se la natura disconnessa delle storie della serie sia ciò che la fa funzionare così bene al momento che nel mio caso tutti i capitoli sono collegati tra loro devo pensare continuamente alla storia nella serializzazione settimanale quindi non riesco davvero a pensare a storie diverse credo che il nostro cervello funzioni in maniera differente di solito un caso dura da 3 a 6 capitoli in detetti conan il che rende più facile pianificare un film ma in one piece qualsiasi saga dura troppo a lungo quella lunghezza potrebbe essere ciò che rende difficile fare più film per la serie sembra piuttosto difficile gestire una sorta di viaggio laterale su un'isola diversa quando tutti i personaggi sono già in viaggio per trovare il one piece e oda spiega è che non è così semplice che l'ha la buttata lì no come a dire ma forse è per questo che non ci riesci no e ci roda arriva subito non si tratta solo di quello i compagni a bordo continuano ad aumentare quindi ad ogni scontro non c'è soltanto una reazione e ciò allunga la storia mettiamolo così se il numero di dettive conan in dettive conan aumentasse il numero di detective scusate se il numero di detective in dettive conan aumentasse non ti creerebbe problemi eo yama fa non voglio davvero aumentare la squadra investigativa sicuramente non l'aumenterò pizzicato appizzicato qual è stata la vostra esperienza guardando i film l'uno dell'altro detective conan the bride of halloween comincia oda stato davvero figo sono rimasto sorpreso quando ho saputo che conan stava aumentando il numero di lettrici perché ho sempre pensato che fosse solo una serie shonen in cui un gruppo di bambini piccoli risolve i casi mi chiedevo perché lo capì quando vedi il film a quindi a loro piacciono molto i personaggi della polizia e tutti questi bei uomini adulti tra tutti i film di oda kun quello che mi piace di più one piece film gold è stato divertente dato che mi sono sempre piaciuti posti scintillanti come las vegas voglio andare su quella nave casino gran tesoro sul serio grazie se dovessi menzionare qualcosa che tutti i nostri film hanno in comune che in one piece detective conan c'è sempre una espansione nel finale questo è il modo classico di fare manga shonen vero o no non mi riferisco alla narrazione con espansione in detective conan espandiamo i palloni da calcio e one piece rufi può espandere tutto il suo corpo più sono grandi più eccitante oda già stava pensando ah per il racconto perché poi faccio delle cose belle che piacciono pure al maestro no parlo dei palloni mamma mia mamma mia era troppo bello se e ceroda diceva e anche io faccio espandere le tette a nami e quindi è quello che intendevi grande indica sempre giustizia credo che sia abbastanza chiaro che siano entrambi siamo entrambi dell'era di ultraman c'è più una cosa cresce più è la giustizia ricordo che in film gold c'erano tartarughe che muovevano auto alla turtle car race sei tu quello che scoggi da queste idee di solito lascio tutte le idee allo sceneggiatore e controllo solo il contenuto del film e risolvo tutto ciò che deve essere risolto i film appartengono ai registi quindi è qualcosa che non dovrei fare ma se non lo faccio io non posso davvero assumermi la responsabilità disegni fotogrammi chiave per i tuoi film giusto e oyam risponde ho ricoperto quel ruolo fin dal primo film the time bombed skyscraper ed aumentato costantemente quest'anno ho disegnato circa 20 fotogrammi chiave top sto fatto non lo sapevo abbastanza sicuro che i fan possono facilmente notare quali sono quelli disegnati da te potresti disegnare anche tu i fotogrammi chiave del film odakun aichiro oda se dovessi mettere troppo lavoro nei film allora non sarei in grado di continuare regolarmente con la serie settimanale quindi è difficile da gestire so che per mantenere la popolarità della serie devo attirare nuovi fan e generare più fermento in tutto il mondo con un film almeno una volta ogni tre anni ma onestamente davvero difficile so che se devo farlo sarà piuttosto schizzinoso sono consapevole della mia personalità anche se all'inizio non mi piaceva molto alla fine finisco per intromettermi anche nei processi delle pubblicità controllo i libretti distributivi nei teatri e le loro scadenze di produzione e supervisiono tutto tengo d'occhio anche i layout i design del poster a miseramente tutto questo eppure mi sento male per i miei mangaka più giovani ho crea i miei mangaka ho creato una cultura in jump in cui il film diventa un successo se l'autore originale viene coinvolto quindi tutti hanno iniziato a essere presi in prestito per lavorarci con mia sorpresa però questi giovani si stanno davvero divertendo penso che sia una buona cosa sembra che tutti si stiano divertendo e questi sono i poster dei film di cui si parlava prima brido halloween e gold cosa ne pensi dei tuoi protagonisti aoyama dice conan è colui che coordina tutti oda fa per me lui è il personaggio più facile da disegnare ho sempre saputo che sarebbe stato il personaggio che sarebbe rimasto più a lungo come se è così qual è il personaggio che pensi di saper scrivere solo e oda fa penso che sia ancora luffy molti sceneggiatori cercano di trattare con lui ma devo modificare le sue frasi tutto il tempo altrimenti la gente non lo accetterebbe come i luffi che conoscono detective conan è un personaggio del genere un personaggio che ha sempre bisogno di avere le sue linee fisse aoyama fa nella mia serie sarebbe kin ti cercano sempre di fargli dire ucciderò tutti e devo dire no non lo direbbe mai capisco che il personaggio che dobbiamo sempre supervisionare in qualsiasi film è lo stesso personaggio che solo noi possiamo scrivere è una relazione piuttosto strana vero dal punto di vista di un lettore puoi notare piccoli dettagli se il personaggio agisce in modo diverso ma come sceneggiatore la cosa viene percepita in maniera totalmente differente devo sempre riscrivere ghina al cento per cento ultimamente gli sceneggiatori mi consegnano la sceneggiatura quindi la modificano direttamente a volte è scritto come una sorta di scena di commedia d'amore come aoyama sensei salvami e io sono tipo sul serio oda fa poi lo aggiusti immediatamente il lavoro diventa un successo e continuano a fare affidamento su di te esattamente ma mi rende felice che si affidino a me detective conan e one piece punto decisivo ripensando agli oltre 100 volumi che entrambi avete pubblicato qual è stato il punto decisivo della serie secondo è difficile da dire ma se dovessi scegliere un to sarebbe il capitolo che ho scritto quando sono stato dimesso dall'ospedale dopo essermi preso una pausa a casa di una malattia improvvisa il capitolo è iniziato con acai e amuro che puntavano le pistole l'uno contro l'altro volume 95 capitolo mille sembra così fico quando è stato rilasciato quel capitolo aoyama risponde quattro anni fa mi sono preso una lunga pausa quindi il mio ritorno per il mio ritorno ho dovuto disegnare qualcosa di popolare e mi ha spinto a fare quella scena interessante anche se fino ad allora non avevo davvero scritto nulla nella serie pensando a quel momento so come ci si sente per me il punto decisivo è qualcosa di più recente luffy ha ricevuto un nuovo power up chiamato gear fifth ed è qualcosa che volevo disegnare da molto tempo è sorprendente che entrambi abbia descelto capitoli così relativamente recenti in one piece capitolo 1044 viene rivelato il vero nome del gom gom uno mi e il gear fifth permette a luffy di trasformare tutto il suo corpo oda inizia ho disegnato questo perché voglio davvero divertirmi e penso che vada bene anche se alla gente non piace voglio solo giocare con le mie battaglie fin da quando ero un assistente ho sentito che le espressioni stupide che erano così caratteristiche nei manga sono andate gradualmente perse mettere una lampadina nella testa di un personaggio quando gli viene in mente qualche idea o far girare le gambe del personaggio in cerchio che corrono quando corrono per esempio giusto anche quando gli occhi spuntano fuori dalle orbite ho sempre amato quelle espressioni simboliche ma continuano a scomparire nessuno le disegna più anche se sono le creazioni dei nostri predecessori che hanno lasciato molte formule che usiamo ancora il battle manga deve continuare a diventare sempre più serio per tenere il passo con le aspettative dei lettori e onestamente lo odio non voglio che la mia opera diventi così seria voglio divertirmi e mi sento come se fossi finalmente in grado di farlo quando stavo disegnando questo mi sono davvero divertito ora qualcuno dovrebbe tornare indietro nei video reaction dei capitoli quando è uscito il capitolo 1044 e io ho detto sapere che c'è che questa trasformazione è brutta sapere che c'è che quello che sta succedendo è brutto ma sapere che c'è veramente di nuovo che sembra disegnato come se oda avesse tutto stampato in testa si vede proprio che questa roba la vuole fare da un sacco di tempo e si vede proprio che si sta divertendo a farlo perché era palese che fosse la cosa più bella è proprio un capitolo incredibile quello della trasformazione da cosa lo hai notato dal modo in cui disegnava la battaglia dal modo in cui disegnava luffy dal modo in cui si concentrava tanto su quel personaggio e sulle sue capacità da come riusciva a influenzare gli altri one piece è il manga dell'influenza luffy e gli altri mugiwara non sono dei pirati così come riconosciamo noi sono più quasi quello che fa sabbo no dei rivoluzionari arrivano cambiano l'ordine delle cose ne creano uno nuovo fatto di vera giustizia non come quello della marina che è fallace fatto di vera giustizia e vanno via in un altro posto e loro influenzano gli altri completamente influenzano tutta l'isola in cui vanno e il potere di luffy è il potere dell'influenza definitivo lui cambia pure le persone con cui combatte cioè il modo in cui agisce su di loro non solo trasforma il terreno ma trasforma proprio le persone e quella cosa là era estremamente divertente perché ichiro oda è un tipo che nelle battaglie ha sempre disegnato luffy che faceva delle cose assurde strane comiche estremamente comiche e un fumetto così comico era la cosa che lui voleva disegnare proprio te ne accorgi lo vedi quando conosci una cosa noti la differenza aoyama guarda un'illustrazione del gear fifth dice wow incredibile mi piace molto il design è eccellente sono anche impressionato dal fatto che tu sia in grado di disegnare questo tipo di volti grazie quando penso al suo concept puoi pensarlo come se improvvisamente diventasse tom e jerry si si è piaciuto tom e jerry solo che non posso perdonare jerry jerry oh no io adoro jerry davvero tom ci ha messo sempre tutto se stesso ma jerry era troppo subdolo odio jerry anche se dovendo paragonare uno di loro a conan probabilmente sarebbe jerry perfetto quindi conan e jerry lui odia jerry odia conan odia tutto il fumetto perfetto oda fa quando ho provato a disegnarlo prima prima volta è stato piuttosto difficile il mondo di tom e jerry funziona grazie a entrambi i personaggi quindi ho faticato molto a sostenere la differenza di atteggiamento tra luffy che sta facendo scherzi nel bel mezzo della battaglia e il suo serio avversario ma alla fine ci sono riuscito più invecchi più è difficile e faticoso disegnare le battaglie vero aoyama fa beh non ci sono molte scene d'azione di battaglie in detective conan quindi quando devo disegnarle lo faccio di buon umore tuttavia di solito finisce abbastanza velocemente considerando che sta solo sparando palloni da calcio molto tempo fa però mi sono stancato mentre disegnavo yaiba quando l'arcipelago giapponese è diventato un drago è stato difficile per me e miei assistenti tirare fuori quei disegni ma anche in questo caso disegnare scene d'azione è un'esperienza divertente quindi voi due avete dei segreti per quanto riguarda la continuazione di una serializzazione per più di 100 volumi senza fare pause comincia oya no le persone me lo chiedono spesso ma onestamente non ho segreti da svelare e tu idem tanto per cominciare non è che fosse mia intenzione superare i 100 volumi quando detective conan iniziò pensavo che non sarebbe stato più di un volume o due ma poi intorno al secondo capitolo inizia a realizzare sta davvero diventando popolare ed ero sorpreso di come fosse costantemente il numero 1 in classico a quel punto sapevo che sarebbero stati guai seri se non avessi ampliato ulteriormente la storia ho sempre voluto porre fine alla serie detto questo penso anche come ci siano ancora così tante cose che voglio disegnare o che devo fare capisco perfettamente c'è ancora così tanta storia da raccontare ti stai davvero divertendo penso che sia fantastico ho sentito dai mangaka jump senior che è incredibile che tu ti stia divertendo così tanto davvero e perché perché tutti si stanno sforzando per continuare a disegnare sul serio non può essere vero loro si sorprendono del fatto che gli altri si devono sforzare a fare delle cose per loro invece è come respirare d'altronde se non fosse così non avrebbero mai raggiunto questi 100 volumi non è solo una questione di essere stacanovista proprio un attitudine quindi se c'è un segreto per il vostro successo sarebbe quello di divertirsi in quello che si fa oyama risponde sì penso di sì più ti diverti a disegnare più velocemente puoi arrivare a realizzare fantastici storyboard ami davvero i misteri ti stanchi mai disegnare casi diversi li amo amo sherlock holmes da quando ero bambino capisci per coincidenza le elementari scrissi nell'album di fine anno che volevo disegnare un manga specializzato sui investigatori privati lo che amo sono i momenti in cui disegno le ambientazioni per le diverse isole da quando la storia è entrata nella grand line sono libero di fare quello che voglio regni che non si vedono allo stesso modo mari feroci isole con culture climi totalmente diversi quando la storia raggiunge la nuova isola illustro tutto questo quindi se mi chiedessero cosa vorrei disegnare di più sarebbero le isole come quelle che posso disegnare senza restrizioni ma devo tenere conto della durata della mia vita ah sì ci sono delle somiglianze con questo in detective conan credo ad esempio se voglio disegnare il calcio posso concentrare un caso di amicidio intorno a un giocatore di calcio però non deve superare i tre capitoli se avessi un segreto su come sono stati in grado di continuare così a lungo potrebbe essere quello di dettagli conan mi permette di disegnare quello che vuoi per le cose che mi piacciono come il baseball tutto ciò che serve trovare una buona opportunità per centrare una storia attorno ad esse quando voi due disegnate quale pensia quale pensate vi dia più problemi disegno la trama comincia oia entrambi probabilmente entrambi possono essere impegnativi ma possono anche essere divertenti giusto per me è la trama che crea problemi non mi stanco mai di disegnare dopo che la pianificazione degli storyboard è terminata si tratta solo di disegnare quindi spesso mi ritrovo a voler finire prima con gli storyboard amo disegnare quindi vorrei avere più tempo per disegnare quello che voglio ma anche quando non ho molto tempo riesco ad arraggiarmi in qualche modo sono davvero lento con gli storyboard penso che fossi come te quando avevo la tua età altrimenti non sarei mai stati in grado di mantenere un programma con solo tre ore di sonno allora era un vero disastro rispetto ad adesso ora sono in grado di essere calmo e composto quando non si dorme si può continuare a creare avere successo vero tuttavia è quando uno è a riposo che diventa più ansioso quando ero malato e ricoverato in ospedale non potevo fare a meno di preoccuparmi va davvero bene per me fermarmi qui pensavo a cose del genere sì ti capisco mette totalmente in ansia sono stato male una volta per un po e nonostante fossi in ospedale con me i miei strumenti di colore feci una color spread è difficile calmarsi nel mio caso chiedi chiesi di disegnare un'illustrazione speciale come regalo per i lettori di shonen sunday super e i fan si arrabbiarono con l'editore signor oiamo in ospedale lo sta facendo ancora lavorare deve placare anche se ero stato io a chiedere di farlo quando sei in ospedale pensi di riposarti e rilassarti io invece mi emozionai volevo davvero disegnare insistetti sul fatto che una sola pagina a colori non mi avrebbe fatto male essere in una serializzazione è come essere inseguiti in una gara fondamentalmente non esistono tempi morti perché le scadenze sono sempre dietro l'angolo e questo è generale come sono gli incontri con i redattori per voi due comincio a oyama di solito sono verso le due del pomeriggio l'editor viene a casa mia per un po parliamo di tv e riviste le discussioni sui manoscritti iniziano in serata i tuoi incontri editoriali durano un bel po assolutamente sì l'editor incaricato di solito propone idee per i metodi del colpevole ma a volte non riusciamo a trovare nulla in questi casi torniamo sull'argomento il giorno successivo tanto tempo fa stavamo svegli fino all'alba a proporre idee ma non così tanto ora che siamo più grandi come vanno i tuoi incontri editoriali i miei li facciamo via telefono o solo a voce molto tempo fa ci incontravamo di persona ma in poco tempo è diventato più facile prendere appunti e parlare al telefono dopo tutto si riescono a capire le espressioni di qualcuno attraverso la loro voce quando si ascolta il tono si riesce a dedurre la loro relazione sul fatto se qualcosa gli piaccia o no seguo le riunioni una settimana alla volta la mia mentalità è devo solo passare questa settimana per arrivare alla prossima quanti anni mancano al capitolo finale ah vediamo un po vediamo un po vediamo un po che cosa ci dicono adesso entrambe le vostre serie hanno raggiunto i loro momenti chiave insieme l'identità del comandante in seconda della black organization room è stata rivelata e one piece ha raggiunto la saga finale veramente all'inizio pensavo che one piece sarebbe finito in cinque anni e in circa un anno e mezzo i dieci membri dell'equipaggio di rufi si sarebbero riuniti lo pensavo con un videogioco ma ero troppo ingenuo non è che volessi che le cose continuassero ad allungarsi ma alla fine è quello che è successo aoyama idem hai mai pensato ok è ora di porre fine a detective conan rimanga tra noi ma ho già disegnato il capitolo finale cosa anch'io faccio cosa come oda quindi esiste già il capitolo finale disegnato punto aoyama fa forse non avrei dovuto dirlo non voglio che qualcuno venga a rubarlo come ho detto prima una volta sono stato in ospedale per un po e cominciai a pensare che le persone possono morire senza preavviso quindi pensai perché non disegnarlo questo è successo circa cinque anni fa così decisi che disegnare lo storyboard non sarebbe stato un grosso problema anche se per ora è un rimpiazzo chiaramente perché era per la paura di morire agrid non dovevo dire ok quindi ragazzi abbiamo scoperto una cosa importantissima nel caso in cui aoyama corna a terra dovesse venire a mancare il finale c'è già certo è stato solo un capriccio ma in realtà l'hai disegnato almeno sei stato in grado di farlo a tuo piacimento diciamo di sì non è stato un grosso problema perché ho già deciso i dettagli principali ma ci sono archi narrativi che dovrei affrontare prima di arrivarci questo è un segreto perché poi oda dice quanto tempo manca al capitolo finale è un segreto potrei decidere di ridisegnare il finale dopo questo insomma ho sempre immaginato come sarebbe stato il capitolo finale di one piece anche se di tanto in tanto la situazione che lo circonda cambia anche se in realtà una volta trovato il one piece la serie termina tuttavia la prossima saga è l'ultima sul serio sta davvero per finire sì per me questo è davvero l'arco finale lo chiederò senza mezzi termini quanti anni mancano al capitolo finale eccoci eccoci comincio a riguardo a quanti anni mancano beh ho dato innumerevoli risposte diverse quindi ormai dove chiedermi se qualcuno mi crede ancora aoyama sì lo penso anch'io non lo urlerei dalla cima delle montagne ma personalmente mi piacerebbe finirlo entro tre anni ma non lo sai per certo aoyama tutto dipende da come si comportano i personaggi e oda dice una cosa incredibile estremamente vera siamo solo navigatori in queste storie tre anni oda dice entro tre anni intervista uscita stasettimana 2025 voi ci credete io no io no per me si allunga di altri due si arriva a cinque anni si fa il trentennale e lo spara fuori per il 2027 si penso per il trentennale ci arriva signor oda il suo editor sa come andrà la storia fino alla fine e oda risponde ora sono al mio undicesimo editor ma mi impegno a raccontare a ogni nuovo editor l'intera storia dall'inizio alla fine anche se ultimamente è diventato un po una seccatura quindi lo diviso in parte anche se alcuni dettagli cambiano di volta in volta l'obiettivo rimane lo stesso ci sono stati alcuni colpi di scena oltra giocosi durante la serializzazione ma il flusso della storia è stato solido al punto che gli editori del passato sono rimasti sei sicuro di poterlo fare chiedono ma poi non ricordano comunque quindi vabbè hai già disegnato il finale chiede aoyama e oda risponde ho appunti sui miei pensieri che ho preso prima che raggiungessero una nuova isola e anche un taccuino dei misteri più profondi di one piece che ho creato aoyama subito forse dovrei rubarlo anche io ho degli appunti sulla famiglia akai e il loro obiettivo non circa tre pagine quando un nuovo editor gli faccio dare un'occhiata ma è così complesso che non riescono a memorizzarlo quindi quando la storia raggiungere la serializzazione vera e propria sono sorpresi dagli eventi nonostante io non mi discosti dagli appunti che ho mostrato loro però il finale è già lì quando ce la farò sarà in un colpo solo avete dei piani per dopo che le rispettive serie saranno giunte a conclusione oda dice mi piacerebbe fare un viaggio e stare in un posto nuovo ogni notte vabbè come one piece letteralmente aoyama invece mi piacerebbe trasferir è quello che direi ma non voglio nemmeno farlo probabilmente non è molto meglio del caso di oda ma un sacco di cose che rendono il trasloco un problema non faresti un viaggio fatto una volta ad esempio sono andato a londra per dare un'occhiata al british museum per controllare dei materiali da utilizzare in detective conan sono andato anche il ponte di bohal per prendere i materiali per la resa dei conti di mary e vermouth però dopo c'è stato il copio andare all'estero e viaggiare nei sorgenti termali di tutto il mondo fino alla morte dice ichiro oda tanto tempo fa volevo andare in brasile per vedere la coppa del mondo però quando stavo lasciando il giappone il tizio del controllo passaporti ha fissato il mio passaporto per un periodo di tempo spiacevolmente lungo gli ho chiesto se c'era qualcosa che non andava e ha detto ero solo curioso di sapere cosa succederà dopo in detective conan per favore faccia un viaggio e ritorni ma seriamente mamma mia che ansia forse ha capito chi sei veramente un nome abbastanza insolito probabilmente sarebbe imbarazzante dirlo ad alta voce in ospedale anche il mio nome è diventato un grosso problema negli ultimi tempi quando sono in ospedale dato che si preoccupano per me fanno attenzione a chiamarmi a voce alta ci sono dei momenti salienti che i fan dovrebbero tenere d'occhio mentre si va avanti aoyama dice un caso in cui room una volta aveva entrambi gli occhi oltre a come questo si collega al padre di akai shuichi su tom se sarà interessante ma non lo so da rispondere per me momenti salienti che i fan dovrebbero tenere d'occhio difficile rispondere ci sarà sicuramente molto da vedere ma voglio che i lettori siano sorpresi quindi non so se dovrei dirlo qui per ora il passato sarà un grosso problema qualcosa è accaduto al mondo durante i cento anni del grande vuoto e verrà alla luce dovrebbe rivelarsi interessante quello che trovo più divertente quando i lettori si divertono a loro volta mi piace un sacco dateci i vostri pensieri conclusivi per favore gosho oyama non voglio che one piece finisca prima di detective conan e ichiro da fa essi è quello che stavo pensando anche io torna la cattiveria di questa intervista buona fortuna per far andare avanti one piece e i ringraziamenti per aver partecipato all'intervista eccolo qua aoyama a sinistra e oda coperto dal dal suo autoritratto come akira toriyama sensei ne copia non solo il manga e l'avventura in generale ma anche lo stile per essere rappresentato niente foto anche toriyama odia le f***e è stata una bella intervista con alpistacchio riassunto riassunto è trattiamoci una merda poi facciamoci pompini a vicenda poi trattiamoci di nuovo una merda dai è stata una bella intervista io mi sono divertito top content per iniziare la settimana sì sì poi uscirà una parte 2 dell'intervista quando uscirà leggeremo anche quella grazie a tutti